Vessazioni, violenze, richieste di denaro e ancora l'auto con il serbatoio pieno di carburante per fare un giro, pretese continue e insistenti che quando non venivano assecondate sfociavano in violenze contro la madre. Esausta la donna lo ha denunciato ai carabinieri di Boiano che si sono trovati di fronte una mamma disperata, impaurita, preoccupata per la propria incolumità e per la salute del figlio messa a dura prova dalla droga e da una vita senza obiettivi. Il ragazzo era già noto alle forze dell'ordine, due anni fa venne arrestato per lo stesso motivo e storceva denaro alla povera mamma. Scontata la pena la donna aveva deciso di riaccoglierlo in casa sperando in un ravvedimento che non c'è stato e così le violenze sono continuate divenendo più insistenti con l'inizio del periodo estivo. La donna a quel punto non ha potuto fare altro che rivolgersi ai carabinieri della stazione di Via Croce con l'obiettivo di indurre il figlio a frequentare un regime terapeutico. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso condividendo le risultanze istruttorie del sostituto procuratore avallando la richiesta di applicazione di misura cautelare personale ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare a carico del figlio violento prescrivendogli di lasciare immediatamente il domicilio e di non farvi rientro senza autorizzazione vietandogli inoltre di non avvicinarsi alla madre e dai posti dalla donna frequentati mantenendo comunque una distanza non inferiore ad 800 metri